Chi ha premuto il grilletto si sarebbe nascosto dietro alcuni bidoni della spazzatura. Da qui ha prima esploso due colpi in direzione di un'auto in corsa, poi un terzo per bloccarne definitivamente la marcia. E' questa una prima ricostruzione fatta dagli investigatori sull'agguato avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Foggia in via Forcella. A bordo della vettura, una Smart, due persone, padre e figlio, rimasti miracolosamente illesi. Uno di loro, il 41enne Bruno Carella, volto noto alle forze dell'ordine, potrebbe essere il vero obiettivo dei sicari. L'uomo è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo, così come il figlio che era alla guida della macchina. Le indagini sull'episodio sono affidate agli agenti della squadra mobile della questura locale che in queste ore stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona della sparatoria. Sul posto sono stati rinvenuti tre bossoli di fucile.